Con il tecnico di Pisa Luca D'Angelo è terminata da poco Monza-Pisa, possiamo dire la sintesi è 2-1 parla al centro. Sì, anche se noi sull'1-0 soprattutto abbiamo avuto tante occasioni per pareggiarla e sarebbe stata anche più giusto secondo me. Vale un po' il discorso fatto con il Benevento, la squadra era andata sotto anche immediatamente, poi è mancato qualche occasione. A differenza di Benevento questa volta è arrivato un gol, anche se la differenza rimane la stessa di sette giorni fa. Sì, noi abbiamo preso gol abbastanza subito, anche se siamo partiti meglio del Monza. Poi la squadra ha reagito molto bene e si è messa a giocare, ha creato tanto. Siamo andati sotto 2-0 nel momento in cui nessuno se lo poteva aspettare perché stavamo facendo noi la partita. E poi abbiamo fatto il 2-1 che ci tiene mentalmente dentro ancora di più alla partita. Puskas e Beruato sono usciti dopo aver accusato i crampi, per loro sei preoccupato oppure è soltanto un problema di stanchezza? No, no, solo crampi perché la squadra è normalmente molto stanca, però ho visto che anche tanti giocatori del Monza erano in difficoltà con i crampi perché ci sta. Fine stagione, partita di importanza che vale tanto, dunque ci sta, ma domenica i ragazzi saranno bene. Ultima cosa, finita la partita da quasi mezz'ora si sentono ancora i tifosi del Pisa a cantare nel loro settore. Se qualcuno avesse dei dubbi su cosa vi spingerà domenica, loro lo stanno già facendo capire. Sì, sì, ma noi sappiamo qual è l'amore che trasmettono i nostri tifosi e sono sicuro che domenica lo dimostreranno ancora una volta. Robert Gucker, il Pisa è ancora vivo, è ancora lì e può ancora cullare il sogno di raggiungere la Serie A? Sì, sì, noi anche sul 2-0 saremmo stati vivi comunque, ma è ovvio così si crea un entusiasmo diverso, comunque ci crediamo fino in fondo e questo è fondamentale. Ma sapevamo che il torneo non sarebbe finito oggi, ci aspetta una battaglia domenica e insieme ai nostri tifosi saremmo pronti. Il gol è arrivato sul finale, però onestamente due gol di scarto forse sarebbero stati troppi. Il Pisa ha fatto vedere di giocarsi alla pari col Monza per tutti i 90 minuti. Sì, sapevamo che comunque sarebbe stata una partita a parità, perché è una squadra forte, in una finale normale, non ci sono favoriti. Abbiamo preso il secondo gol forse nel momento migliore nostro, ma quello che conta è la reazione di questo gruppo, lo spirito di questa squadra, di questo gruppo e l'abbiamo dimostrato oggi l'ennesima volta, che abbiamo fatto capire a tutti quanti cosa vuol dire giocare per il Pisa. Hai anticipato te, domenica giocheremo davanti al nostro pubblico, te sei dai più anziani, permettimi la battuta, conosci bene questa piazza, quanto peserà veramente il pubblico di Pisa nella gara di domenica? Io penso l'entusiasmo finale dopo una sconfitta dimostra quanto ce lo crediamo, ci crediamo a questa vittoria, perché proprio insieme a loro, all'arena, possiamo fare grandi cose. E la dimostrazione è questo, come ha detto, l'entusiasmo finale, perché non si ride, non si scherza con se si perde, ma è proprio questo perché ci crediamo in fondo veramente tutti, dal primo fino all'ultimo, e insieme a loro, come abbiamo visto anche col Benevento, questa aria che tira lì è qualcosa di particolare, qualcosa di unico, e ci spingeranno e si porteranno poi fino in fondo. Noi ovviamente ci metteremo tutto, ce la metteremo tutto. Filippo Berra, Tiberio Fossi è un collega di Football Data, preziosissimo, mi ha informato che non segnavi dal 28 novembre 2020 in un Pescara-Pordenone, eri con la maglia del Pordenone. Questo gol ha un peso, non ce ne vogliano il Pordenone, ma ha un peso più importante. No, è vero, un peso molto più importante. Sono contento per me, perché è stato un anno difficile per me, per la squadra, per la città, per tutto, perché abbiamo un'enorme possibilità da giocarci adesso. Tra l'altro il tuo gol ha riaperto una sfida, che sarebbe stata aperta anche solo il 2-0, però onestamente il divario era un po' elevato, perché il Pisa non meritava un passivo così. Sì, è vero, non meritavamo assolutamente di perdere il 2-0, ma secondo me neanche il 2-1. Per cui ci siamo aperti questa possibilità da giocarci davanti alla nostra gente, che ci spingerà fino all'ultimo minuto. Avete avuto un assaggio nel finale dell'entusiasmo, nonostante una sconfitta, la gente come voi ci crede adesso. C'è il secondo tempo, altri 90 minuti, forse 120, chissà, ma tutto è ancora possibile. È vero, adesso è tutto aperto, ce lo giochiamo, siamo pronti a giocarci, contenti di giocarci fino alla fine.